Musica Questo spettacolo teatrale sarà sulla mia storia, sul mio libro L'ultimo in un solo bianco è uno spettacolo teatrale che parla di conoscenza, di integrazione, di amore tra culture diverse Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice noi crediamo che questo spettacolo abbia dei punti in contatto molto forti perché parla di amore, parla di incontro, parla di dialogo, di conoscenza Qual è il vento su Capullo e cambia idea? Cambia il vento e forse è Dio che non è morto Grazie 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 Grazie